www.fasano.it Ciao e benvenuti tutti! Mi chiamo Ben e oggi vi raccomando qualcosa di più sulle città di Fasano. Seguimi per i prossimi 5 minuti e vi mostrerò un paese che tutti amiamo, anche se non è in buona condizione e magari perché non è in buona condizione. Qui siamo a parte della città di Fasano, la città tra Bari e Brindisi, e c'è un paese che dovete sapere. Quindi, benvenuti a Minareto! Stavamo a chiamarlo Minareto perché la torre che ricorda il minoretto dei muslimi, ma, in realtà, non è una mosca, ma una villa residenziale built in 1912 da un artiste, un artiste locale, Damaso Bianchi. Damaso Bianchi era nato in Bari in 1861 e morì con la via di Bari a Fasano nel 1935. Iniziava la sua carriera come un nuovo città nel Banco dell'Italia, ma, come si è diventato con una buona scelta in painting e in drawing, si è riuscita il lavoro e iniziò a studiare l'art. All'inizio del 20 secolo, iniziava la sua carriera in Tunisia e lì era molto impressionato dall'architectura di questa area di Nordafrica. Quindi, quando arriva a Puglia, ha deciso di costruire la sua villa residenziale con lo stile e i dettagli che ha visto durante la carriera che ha fatto un po' anni fa. tanto, per un'altra zona che ha fatto, si scelgono di costruire la sua villa e si è fatto bene. Se da qui si è dominato, all the surroundings and you should just imagine one century ago when there were not so many buildings and so many trees. One century ago when the sun set down the light on the top of Minareto was a kind of lighthouse for people moving around mostly with chariots and donkeys. What we think is unique of this villa are the details because Damaso Bianchi designed a pattern, a geometrical matrix that has been used in every single element of the decoration. So you may see the railings, you may see the decorations of the walls, the painted walls, you may see the windows frame and most of all you may see the tiles of the floor. It looks like a kaleidoscope of colors. Now we are at the top of Minareto and we are here to evidence you why Damaso Bianchi chose this place to build his own villa. To enjoy the landscape with a limitless view, a breathtaking view on the countryside. To enjoy the confluence of the air coming from the Ionian Sea, far from here only 45 kilometers. So that's why in Selva di Fasano the air is healthy and that's why you should come here to join us. Hey! 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 Hey!